Gli esponenti di Forza Italia a Bagheria hanno organizzato una raccolta di materiali per la scuola da donare alle famiglie in difficoltà. Ascoltiamo le interviste. L'iniziativa Banco Scuola è una raccolta di materiale didattico per famiglie bisognose e quindi noi siamo già in contatto con la scuola Bagnera, con la direttrice dottoressa Bonanno e daremo il materiale che raccoglieremo domani pomeriggio alle ore 16 allo SMA, ex SMA Ore Supermercato Simpli, saremo là davanti proprio per cercare di raccogliere il più materiale possibile per poterlo dare, poterlo donare alla scuola Bagnera e là poi lo smisteranno per le famiglie che appunto ne hanno di bisogno. Quindi in poche parole voi fate un appello alla popolazione per fare cosa? Ognuno può dare una mano in questo banco? Assolutamente sì, invitiamo tutti i cittadini a venire a donare anche una matita, un colore, un quadernone, anche uno zainetto già usato potrebbe essere utile per tanti bambini che sono meno fortunati e quindi questo è proprio un volere dare un diritto che è appunto lo studio a tutti senza discriminazioni sociali. Politica secondo me è aiutare il prossimo, lo vediamo anche a livello locale, a livello anche giovanile, quando un ragazzo come me di solamente 19 anni inizia questa iniziativa appunto per poter aiutare i bambini. Ci ricordiamo che aiutando i bambini anche meno bisognosi riusciamo anche a aiutare una famiglia. Quindi questo è molto importante, è un messaggio che vogliamo portare avanti perché sin da una piccola cosa, come disse appunto Maurizio, una matita possiamo farlo per fare un gran bene appunto per una famiglia magari più numerosa, una famiglia che comunque non può permettersi in tempi di crisi, diciamo materiale didattico per la scuola.